Ciao a tutti, quello che vi propongo oggi è un dolce al cucchiaio. Quello che ci serve è caffè espresso, mezzo bicchierino di rum, crema pasticcera al cioccolato, crema pasticcera, pan di spagna e scaglie di cioccolato fondente. Procediamo con versare il rum all'interno del caffè. Mischiamo. Beviamo il pan di spagna con il caffè. E cominciamo a creare la base del nostro dolce. Procediamo con uno strato di crema pasticcera, qualche scaglietta di cioccolato e di nuovo uno strato di pan di spagna. uno strato di crema pasticcera al cioccolato e via così, uno strato di pan di spagna. staglietti di cioccolato Il tempio Il tempio Il tempio Il tempio Il tempio Il tempio E un ciuffetto di crema pasticcera con ancora qualche scaglietta di cioccolato. Vi auguro che questo video vi sia piaciuto e un dolce semplice e sfizioso. Ciao a tutti! Il tempio Il tempio Il tempio Liantala Stile Un passo avanti Il tempio 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 Grazie a tutti.